Il grande giorno in casa Napoli, il giorno dell'inizio del ritiro di Di Maro, ormai da anni grande tradizione per il club del presidente De Laurentiis, sarà anche il giorno del debutto di Antonio Conte sul campo e dei nuovi calciatori azzurri come Marine Spinazzola. Non ci sarà ancora Alessandro Buongiorno, che nelle prossime ore incontrerà la società e il tecnico prima di mettersi a disposizione e firmare il suo contratto. Intanto, con l'inizio del ritiro, sembrano delinearsi pian piano anche alcune situazioni di mercato, su tutte quelle del capitano Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli, infatti, ieri con una nota ufficiale ha voluto sgomberare il campo da ogni tipo di dubbio. Il calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono desinformati, poiché il chiarimento tra la società e il capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro quindi che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il capitano e perno centrale del calcio Napoli. Pace fatta, quindi, con Di Lorenzo che resterà in azzurro con la fascia di capitano al braccio dopo un po' di mal di pancia esternato dall'agente Mario Giuffredi. Le parti hanno trovato la quadra per rimanere al Napoli con Conte che ha ottenuto ciò che aveva chiesto sin dal principio, la permanenza del terzino, così come quella di Quaraschelia, altro no, secco al Paris Saint-Germain da parte di De Laurentiis, che invece si appresta a trattare la cessione di Ozymen. La pista araba sembra al momento quella più accreditata, con uno spettatore molto interessato alla vicenda, quel Romelu Lukaku che non vede l'ora di riabbracciare Antonio Conte. Il belga ha scelto il Napoli, attende l'addio di Ozymen per l'affondo decisivo. Si comincia dunque con il ritiro e comincia anche prima tv. Sul canale 17 si parte con aperitiro da Di Maro a partire dalle 19.30, mentre alle 22.30 stasera ci sarà l'appuntamento con Delietta Gol per non perdersi nulla sul primo giorno degli Azzurri. Grazie.